I titoli più importanti, crisi del golfo, non sono giustificati gli allarmismi per la nostra provincia, nessun pericolo per gli approvvigionamenti e nessun richiamo alle armi, intensificati i controlli preventivi contro il terrorismo. Intanto anche oggi gli studenti hanno manifestato per la pace. Buonasera da Treviso, sono trascorse diverse ore dall'ultimatum imposto dall'ONU e per il momento non si registrano ancora i temuti attacchi al ditattore iracheno Saddam Hussein. Un silenzio comunque ancora più angosciante, forse tragico preludio, ma anche, lo dobbiamo ricordare, attesa che può far nutrire speranze di pace. I riflessi locali di questa grave situazione internazionale nel servizio d'apertura realizzato dal collega Stefano Masini. Per quanto riguarda la provincia di Treviso ogni allarmismo è del tutto ingiustificato. Lo ribadisce oggi la prefettura censurando certi modi di proporre le informazioni sulle conseguenze della crisi del golfo. In primo luogo non esiste affatto il pericolo di una penuria di merci, tanto più nella nostra provincia dove non ci sono stati grandi accapparramenti ai supermercati. La corsa isterica alle provviste avrebbe come unici risultati gli aumenti della psicosi collettiva e dei prezzi di numerosi prodotti alimentari. Punto secondo, nella provincia di Treviso esiste un pur non altissimo maggiore rischio di atti terroristici. In prefettura è già stata istituita un'apposita commissione. Le forze dell'ordine coadiuvate dallo stesso esercito stanno intensificando la sorveglianza dei cosiddetti obiettivi sensibili, strutture di interesse generale potenzialmente oggetto di atti terroristici, aeroporti, stazioni, centrali energetiche, centri direttivi ed operativi. Maggiori controlli anche verso le persone di origine araba pur escludendo in questo momento qualsiasi sospetto nei confronti di chiunque. Del resto sono molto più accurati ed attenti in questi giorni anche i controlli di ingresso alle nostre frontiere. Terzo punto, quello che sta forse mettendo in maggiore apprensione le famiglie italiane. Le ipotesi su eventuali richiami alle armi sono assolutamente false. Lo afferma il centro di informazione del Ministero della Difesa ribadendo quanto affermato nei giorni scorsi dal Ministro Rognoni. Le cartoline di preavviso rientrano nella normalissima routine di ogni anno. In ogni caso stamattina il Consiglio dei Ministri ha ribadito che l'eventuale coinvolgimento italiano con un ruolo di polizia internazionale in un conflitto armato non comporterebbe alcun aumento del contingente ora nel Golfo. La decisione finale comunque spetterà al Parlamento. Per quanto riguarda invece le nostre caserme non esiste alcuno stato di preallarme, in certi casi solo un aumento dei dispositivi di sicurezza nella misura in cui ogni zona militare può rappresentare un obiettivo di atti terroristici. Eventuali sospensioni o riduzioni delle licenze sono dettate dai problemi organizzativi di ogni singola unità, non da disposizioni ministeriali. Queste le notizie ufficiali nell'attuale momento, piuttosto rassicuranti almeno per quanto riguarda il nostro piccolo particolare geografico.